Perfetto dottoressa, oggetti e cibi quali sono quelli più pericolosi? Allora, tra gli oggetti sappiamo dal SusiSafe che quelli più pericolosi sono quelli di forma sferica e di diametro inferiore ai 4,5 cm, come le palline e le biglie. E gli oggetti di forma circolare, come ad esempio le monete. Ci sono altri oggetti particolarmente pericolosi che sono le batterie, soprattutto quella a bottone, perché se vengono ingerite da un bambino piccolo possono bloccarsi a livello dell'esofago e cominciare a produrre una corrente elettrica che genera una sostanza caustica molto pericolosa per il danneggiamento delle mucose. E i magneti, perché se ingeriti o aspirati in più pezzi, soprattutto in momenti diversi, possono andare ad attrarsi all'interno delle cavità corporee causando dei danni molto seri, se non addirittura in alcuni casi fatali. Quindi in questi casi invitiamo sempre i genitori a portare subito il bambino al pronto soccorso perché le complicanze si possono manifestare già entro le prime due ore. Tra gli alimenti, dal SusiSafe sappiamo che l'80% dei casi di inalazione dei corpi estranei è proprio dovuto agli alimenti perché appunto, come diceva la dottoressa Perini, il bambino ancora deve completare il coordinamento tra masticazione e deglutizione dei cibi solidi. Quelli più pericolosi sono soprattutto la frutta secca e i semi, che rappresentano circa più del 20% dei casi, ma anche i legumi, soprattutto fagioli e piselli. Gli alimenti piccoli e tondi con consistenza elastica come ciliegine di mozzarella, ciliegie, olive, acini d'uva, ahimè i pezzi di wuster, le creme spalmabile e il burro d'arachidi e anche, non dimentichiamo, pezzi di frutta e verdura varia, come pezzi di sedano, pezzi di patate, di mele e soprattutto rondelle di carote. Questo perché in questi casi, quando l'alimento viene aspirato dal bambino, può andare a ostruire le vie respiratorie a vari livelli. Questo non significa però non dare questi alimenti al bambino assolutamente, basta prepararli in modo adeguato, ad esempio la frutta secca va ridotta in farina.